Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore, perché sono misericordioso e pietoso. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. Ritornate a me con il Signore. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Tema della parola di Dio, la conversione. Infatti, il versetto che avete ripetuto, ritornate a me con tutto il cuore, perché io sono misericordioso e pietoso. Ritornare significa che siamo lontani, non stiamo a casa. Dobbiamo tornare a casa? Stiamo lontani da casa. E che cosa ci trattiene lontani da Dio? Al solito, le tribolazioni, le soddisfazioni e le illusioni. Sì, c'è gente che si scoraggia. A un certo punto, non vedendo i grandi miracoli, si attardano, si perdono. Si perdono nella folla di quelli che non sanno nemmeno perché esistono. Sciupano il tempo, sciupano l'intelligenza, oppure addirittura la usano in senso contrario, per il male. Poi ci sono quelle offerte della società, del tempo, che sembrano appagare tutte le nostre aspirazioni. E invece non è così, perché poi i nodi arrivano al pettine, incominciano i lutti, incominciano i dubbi, incominciano le ingiustizie umane, la violenza, la crudeltà, la bestialità. Allora noi ci chiediamo, ma dove mi trovo? Che mondo è questo? Qui sono venuto a fare che cosa io? Ad essere schiacciato oppure a schiacciare? Ad essere ucciso oppure ad uccidere? Possibile questo? Non posso fare il bene perché mi dicono anche male. Se faccio il male, io stesso mi sento un caino, che devo fare? Ecco, noi a volte rimaniamo dentro una magina, sotto una magina che ci stridola. Quanta gente si risveglia solo al momento in cui deve lasciare questo mondo. Lo ricordate? La parabola del Vangelo? Lo ricordate? Gesù dice che quel tale aveva lavorato, aveva preparato bene tutto, aveva seminato tanto frumento, un raccolto straordinario. Allora, adesso godi anima mia, riposa, dormi, perché hai il grano ai pieni. Allora il Signore gli ha chiesto, questa notte stessa ti sarà richiesta l'anima, la tua anima la dovrai rendere a Dio. E tutto quello che hai accumulato, di chi è? Perché se tu hai lavorato per uno scopo fallace, che ha breve scadenza, hai fatto un lavoro che non serve per l'eternità. Perché tu invece sei eterno, hai un'anima eterna, hai una promessa eterna da Dio. E allora hai apprezzato troppo le cose caduche e non hai apprezzato le cose eterne. Allora convertitevi, ecco la conversione, ritornare a Dio, alla parola di Dio, all'esortazione di Dio, alla misericordia di Dio, all'amore di Dio, alla grazia di Cristo, ai lumi dello Spirito Santo, che non ci lascia mai nel buio. Allora confidiamo nella misericordia di Dio, perché una volta che ci avviciniamo a Dio che è la luce, allora scopriamo le nostre ombre. Se voi camminate di notte, avete una macchia sull'abito, sul vestito, vedete quella macchia? E non la vedete, state a camminare nel buio, nella notte. Se però entrate dove c'è luce e vi avvicinate sempre più alla sorgente della luce, allora anche la più piccola macchia vi spaventa. Questo è il motivo per cui Padre Pio riteneva di essere il più grande peccatore, perché trovava ancora dei difetti in se stesso, delle inadempienze, delle insufficienze, mentre in realtà ce la metteva tutta la volontà, tutta l'umiltà, tutto l'abbandono in Gesù, altrimenti Gesù non lo poteva crocifiggere. Quando arriva il Signore e prende Francesco d'Assisi e lo inchioda alla croce, significa che Francesco ha già lasciato lontano il vecchio uomo, è tornato totalmente alla gioia, all'amore, al canto della dolcezza dello Spirito Santo. Infatti diventa il cantore di Dio, Francesco. Ma ogni conversione parte dal lamento e arriva all'esultanza. Sempre. Quando è che vi sentite voi meglio? Quando dentro state meglio? Allora tutte le difficoltà si sormontano. Quanto è che invece vi sembra di stare sempre di fronte alla montagna, che dovete scalare la montagna? Quando non avete trovato nella volontà la forza di dire, ma dai, vai. Ecco allora, la conversione significa che noi ci fidiamo di Dio e affidiamo a Dio tutte le nostre necessità e perfino i nostri peccati. San Girolamo rimase sorpreso quando Gesù un giorno gli è apparso e gli ha detto Girolamo, è ora che mi dai tutto. Signore, ho lasciato la mia giovinezza a Roma, ho lasciato le mie libertà e sono qui a fare penitenza dentro una grotta. Lui si batteva il petto con un sasso al punto che aveva creato una piaga qui che non guarì mai, pentito dei peccati e chiedeva insistentemente il perdono a Dio. E allora ha risposto che aveva dato tutto al Signore, non c'ho più niente io, eppure c'è ancora qualcosa. E che c'ho? Io c'ho solo i peccati e quelli io voglio. Dammi i tuoi peccati, cioè abbandonati alla mia misericordia, confide nell'amore mio. Tu sarai un'altra creatura, sei un uomo nuovo dal momento in cui accogli lo Spirito Santo. E' lo Spirito Santo che ti rinnova. Nemmeno il tuo proposito, la tua pazienza non basta. Ci vuole una perfezione che viene a te dallo Spirito Santo. Invoca lo Spirito Santo e i peccati non ci saranno più. La Quaresima è un'invocazione continua al Signore. Pietà di noi, liberaci o Signore, liberaci da tutti i mali, tutti i mali, quelli del corpo e quelli dell'anima, perché Dio ha cura anche del nostro corpo. E come se c'era Ninive, una città intera, ha ascoltato la predicazione del profeta, si è messo a fare penitenza e Dio ha risparmiato il castigo. E si sono sentiti gratificati, amati, perdonati. Allora sì, possiamo parlare di una umanità che cammina verso la luce. E leviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme, ascoltaci o Signore. La fede è il sostegno del cristiano in ogni momento della vita terrena, ma soprattutto quando il buio e la battaglia si infittisce. Più fede, col tuo profeta hai detto, mi metteranno a morte e confermasti ai tuoi. Il terzo giorno voi in risorto mi vedrete. Turbato è il loro cuore e vinto da paura. Non li vedrai di fatti sul monte del Calvario, ai piedi della croce. Tra il dilagante sfogo dell'odio dei nemici in piedi sta tua madre e stretto a lei Giovanni, l'amico prediletto. In tre faceste luce al tenebrore umano che la natura, offesa al par del suo Dio, con terremoto scuote. Non teme, morte o buio, chi vive di tua luce raccolto intorno a te. Accresci, o buon Gesù, la nostra poca fede.